L'operazione antidroga degli agenti della squadra volanti della questura di Nuoro che hanno arrestato due nurese e sequestrato 1,3 kg di marijuana. Nel corso di un servizio di controllo una volante ha intercettato un'auto con a bordo due nuresi, Fabrizio Corda di 46 anni e Sandro Gregu di 45. Gli agenti hanno deciso di procedere ad un controllo approfondito dell'auto trovando all'interno del bagagliaio, avvolti con della carta, 1,22 kg di marijuana. Inoltre i poliziotti hanno trovato sotto il sedile dell'autista una spranga di ferro e una di legno. Nel vanno portaoggetti invece è stata rinvenuta una cartuccia a calibro 12. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato a casa di Gregu altri 129 g di marijuana, semi di canapa indiana e un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito i due uomini sono stati arrestati per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti a offendere e detenzione abusiva di armi. Grazie. Grazie.